Orti aperte all'integrazione. Non è solo un obiettivo, ma è una vera e propria parola d'ordine per il centro di accoglienza straordinaria Buona Speranza di Andria. La struttura, voluta dalla prefettura della BAT, è gestita dalla confraternita misericordia in convenzione con comune ed ufficio del governo territoriale. Il centro ospita attualmente 88 richiedenti protezione internazionale di differenti etnie, accolti in una parte della struttura comunale di Via Vecchia Barletta, chiusa da oltre 15 anni e adesso completamente bonificata. Al suo interno, uno staff di professionisti, tra cui mediatori culturali, medici e psicologi, ma anche semplici volontari, assistono i migranti attraverso una serie di attività orientate all'accoglienza e alla solidarietà. Il centro di accoglienza straordinaria è un centro di prima accoglienza in supporto a quei grossi centri che sono dislocati soprattutto in Calabria, in Sicilia, nel Salento. Sono i centri che aiutano questi centri in prima linea ad accogliere i migrati, quindi nell'enorme flusso che abbiamo avuto negli ultimi tempi, i centri di accoglienza straordinaria hanno proprio questo compito, cioè quello di essere intermediari tra i centri in prima linea e i successivi, poi, Sprar o altri centri simili. Assieme agli stranieri presenti in struttura, sono circa una ventina quelli ospitati in una tendopoli, così come voluto sempre dalla prefettura BAT, per far fronte all'emergenza sbarchi sulle coste pugliesi. Una soluzione temporanea in attesa del trasferimento degli immigrati in altri centri di accoglienza. La tendopoli è stata aggiunta proprio perché c'era questo enorme flusso di immigrati, quindi c'era bisogno di dare accoglienza. Non sempre ci sono centri a sufficienza per accogliere, per cui in questa fase emergenziale le tende risolvono un problema grossissimo, perché altrimenti non si saprebbe dove accogliere le persone. Tante le attività organizzate dal CAS di Andrea per rendere quanto più produttiva e stimolante la permanenza dei migranti nella struttura. Come i corsi d'italiano, di educazione civica, i laboratori o i progetti musicali, come quello che vede coinvolto questo giovane ospite del centro. Ci sono persone in questo campo che fin dall'inizio mi hanno dato l'opportunità di coltivare questi sogni, in modo particolare canto, registrazione di video e musica. E infatti ogni giorno mi recco in due studio, ad Andrea due studio musicali, in cui registro delle canzoni e in qualche modo mi diletto. E in modo particolare vorrei ringraziare Angela e Gianfranco che si sono presi cura di me fin dall'inizio siamo agli operatori.